oggi parliamo di so x film decimo film del franchise di so che ho potuto vedere in antiprima stampa e che uscirà al cinema il 25 ottobre il film è diretto da kevin greutert ed è scritto da pitt goldfinger e josh stolberg dopo vi spiego perché vi ho detto questi nomi allora io cercherò di essere assolutamente no spoiler anzi sarò no spoiler non sarà semplice spiegare le novità le cose che ci sono in questo so x ma mi sforzerò tanto per non rovinarvi la sorpresa ci tenevo a dirvi chi sono i due sceneggiatori di questo di questo so perché sono gli stessi sceneggiatori di spiral e spiral quello appunto con chris rock che doveva essere una sorta di reboot della saga che doveva rilanciare un po la saga farla ricominciare in un altro modo è stato possiamo dirlo un flop è un film che non è piaciuto che non ha riacceso l'entusiasmo ed era scarico un po di tutto quello che è che significa solo enigmista questo è un franchise di cui a me piace neanche troppo neanche non sono un grandissimo fan però è un film che mi ricordo all'epoca quando lo vidi mi era piaciuto con un fighissimo twist plot twist finale una bella colonna sonora con un tema molto incisivo che che rimane rimane nella testa che incuriosisce un personaggio pupazzo che non c'entra molto però alla fine e rende caratteristico il film e poi soprattutto secondo me e secondo penso molti fan della saga il personaggio di john kramer questo signore che è un ingegnere un ingegnere architetto quindi con delle qualità delle capacità con un'intelligenza particolare che ha un tumore e chiaramente qua spoiler per chi poi loro il primo film non pensiate di poter parlare di questo film almeno almeno sapere di chi stiamo parlando john kramer è il l'artefice di tutti questi marchi ingegni che danno la possibilità le persone di redimersi no di persone che hanno fatto cose brutte di redimersi però sacrificando qualcosa comunque giocando al gioco il famoso gioco di di jigsaw di john kramer quindi sicuramente il personaggio più potente della saga è proprio lui appunto come si chiama l'attore toby bell che qua torna finalmente non come negli altri film dove c'è qualche frame qualche immagine torna e questo film sembra posizionarsi in realtà dopo il primo il secondo film si posiziona in un punto della linea temporale in cui lui è l'enigmista in attività ed ha ancora questo problema di una malattia che lo perseguita in questa pellicola è john kramer ha una disperata voglia di vivere ci ci tiene ancora tanto a vivere quindi secondo me quello che è stato fatto in questa operazione è molto intelligente e mi stupisce che arrivi da persone che hanno fatto un film che invece quasi ha un po snaturato il film originale voleva quasi fare un colpo di spugna su quello che c'era e in quel colpo di spugna c'era proprio toby bell john kramer tutto quello che era presentativo del vecchio film e veniva spazzato via in quella in quello spiral mentre in questo film so x siamo ricatapultati letteralmente alle origini siamo ricatapultati alle origini e sembra di vedere un film in un certo senso dell'epoca e la cosa non mi è neanche dispiaciuta molto c'è un a un qualcosa di vintage questo nel nel gusto nella ripresa nei colori ci ho visto la volontà di assomigliare tantissimo ai primi film al primo film parte a me il film è piaciuto partiamo da questo presupposto mi è piaciuto non lo considero certo un film eccezionale è un film di tratte di intrattenimento pensato per i fan della saga che può piacere perché comunque è una storia a sé può piacere anche una persona che non conosce la saga di so però comunque si porrà delle domande su chi è questo tizio perché chiaramente viene spiegato ma non è così chiaro cioè questa in questo film viene spiegato chi è john kramer chi è chi è solo enigmista ma a persone che già sanno chi è quindi però io penso che possa comunque piacere ma il target il target di questo film sono i fan del primo film i fan di john kramer infatti john kramer è presente sempre nella pellicola non come in altri film dove lo vediamo poco o come nel primo film dove lo vediamo poco qua è il protagonista assoluto ed è una svolta interessante perché lo rende proprio il personaggio con cui ci medesimiamo e lo conosciamo molto meglio lo conosciamo molto bene e vedremo moltissimi suoi lati umani e disumani quindi vedremo come lui la sua follia e la sua e anche il suo lato umano più simile appunto al nostro alla sua la sua voglia di vivere la sua capacità di riconoscere le persone buone e quelle cattive perché poi lui in realtà non è lui crede di non essere cattivo lui crede di dare una chance alle persone o in un certo senso visto che siamo in un mondo immaginario perché questo è un mondo immaginario no non è la realtà per fortuna questo modo immaginario in realtà è un eroe john kramer io penso che abbia affascinato molto il fatto che lui si veda come un eroe qualcuno che dà una possibilità le persone di redimersi quindi attraverso il martirio attraverso la distruzione c'è molto di c'è molta cristianità in questo no il martirio e la distruzione della carne la flagellazione della carne c'è spesso nel nelle richieste di gioco di di gizzo cioè ti devi tagliare un braccio ti devi strappare la carne ti devi togliere un occhio c'è insomma c'è sempre il sacrificio della carne e il martirio no per diventare una persona super quasi una persona migliore perché hai sofferto perché ti sei sacrificato e quindi questo è un personaggio che affascina affascinava e qua riparte proprio da quello riparte da quello dal dal proprio far sentire i fan bene farli godere di questo personaggio così e ce l'avranno io penso che questo sia uno dei motivi per cui è piaciuto tantissimo negli stati uniti e penso piacerà molto anche qua il motivo che avete toby bell per il 90 per cento della pellicola davanti che vi parla che fa cioè quindi i fan potranno veramente goderselo tantissimo vedranno vedranno un solo da anche da un altro punto di vista e penso che sia un film piuttosto piuttosto gradevole per per quello che deve essere funziona funziona alla grande la storia è una storia con le sue mancanze con i suoi diciamo buchi tra virgolette con le sue diciamo giustificazioni che traballano con le sue però ecco è un horror noi negli horror spesso le situazioni sono assurde sono un po tirate per i capelli sono sono fatte in modo che insomma bisogna andare avanti con la trama quindi non bisogna stare troppo a chiedersi a ma come ha fatto quello a fare quella cosa lì eccetera eccetera anche perché poi non fatevi ingannare perché come sapete siete davanti a so e in so c'è sempre il plot twist cioè se non ve lo aspettate siete pazzi quindi non vi preoccupate che non tutto non tutto è come sembra e il film saprà saprà anche essere saprà anche sorprendere un pochino magari non non proprio tutti gli ororofili quelli più sgamati forse sapranno già come va a finire però però è comunque piacevole e soprattutto questo è un aspetto molto molto importante questo film ha diverse scene splatter gore molto 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 difficili da guardare per me non tanto proprio per il l'effetto cioè per proprio per visivamente ma per il tipo di il tipo di di violenza che ha a che fare comunque con parti del corpo che nel mio caso mi colpiscono maggiormente quindi io in generale le varie torture di sono mi hanno sempre dato un po fastidio anche se ho visto film estremi ben peggiori però quello che accompagna questi atti di violenza su se stessi che bisogna praticare per riuscire a salvarsi sono sempre accompagnati da un'atmosfera ben costruita e quindi in questo film io vi giuro che ho fatto un po fatica a guardare tutto cioè ho guardato però con la faccia proprio sofferente perché mi disturbavano alcune scene quindi dal punto di vista anche del gore è sia appagante per chi ama ama proprio questo tipo di cinema horror e allo stesso tempo è anche molto ironico perché ci sono delle cose gore piuttosto ironiche non tutti non tutti le uccisioni sono bellissime però il film alla fine è divertente è veramente molto divertente quindi ve lo ve lo consiglio secondo me anche un ve lo consiglio se amate questo tipo di film ecco bisogna anche capire che che questo è fatto veramente su misura sia per i fan di di so che per tutti quelli che amano un po i film horror di questo genere quindi veramente siamo agli antipodi da rispetto a che ne so ai film horror psicologici o robe del genere ecco anche la regia anche la regia che sembrerebbe una regia normale standard in realtà regala diverse chicche che rendono la visione del film abbastanza piacevole inquadrature particolari giochi visivi che che sono molto interessanti secondo me in generale il film mi è piaciuto però avrei preferito davvero tanto vederlo in lingua originale purtroppo io l'ho visto in italiano il doppiaggio non è spiacevole ma io non lo apprezzo mai per me è sempre comunque meno meno bello penso che questo film in lingua originale mi sarebbe piaciuto molto di più e perché comunque penso che siano abbastanza bravi gli attori e diciamo poi l'importante è che sia bravo toby belle lui è bravo gli altri sono un po così meno meno sul pezzo però insomma hanno anche parti minori quindi ci sta mi stupisce parecchio che penso che sia una cosa positiva una cosa bella che i due sceneggiatori appunto che vengono da da spiral comunque insomma non è che sono incapaci sono sono riusciti comunque a rimettersi in careggiata e dopo un film che comunque non è andato benissimo invece secondo me hanno fatto un film qua che fa il suo dovere assolutamente